a chi non ho incontrato ai politici da fiera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei cuori dedicato ai cattivi e poi così cattivi non sono mai questo schifo di canzone non può mica finire qui manca giusto un'emozione dedicato all'amore e lascia che sia così ai miei pensieri come ero ieri e anche per me ai miei pensieri come ero ieri e anche per me oh yeah 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 sei scatenata sei scatenata sei una forma sei una grande forma senti allora che sensazione ti ha dato questo avvicinamento in classifica dal diciannovesimo posto all'ottavo posto che gli ultimi dovevano essere per forza i primi e infatti ce l'hai fatta a tornare avanti tu non ti arrendi mai no no non mi arrendo mai vai nelle avversità quando le cose vanno storte trovi sempre lo zip la lancora l'occasione la leva sì mi arrabbio la leva mi arrabbio peggio ma quando vanno male le cose ti arrabbio di più sì fai benissimo poi ti trovi in grande forma stasera hanno degli abiti particolari cantanti veramente molto particolari questa è una serata pazza non è il classico festa di Sanremo ho anche una nuova casa discografica sì sì nuova ieri ho capito quindi possiamo spendere ciao siamo sulla sono Fuletti felice veramente di ritornare qua a Sanremo anche perché l'ultima volta purtroppo ci sono state un po' di eh voci invece io non sono né pazza né sull'ultima crisi di nervi grazie tanto per precisare allora dammi l'asta la canzone scritta da Loredana con Leon vedi che memoria di ferro che ho fermi ragazzi adesso vi scatenate allora sei bellissima allora sei bellissima voi siete bellissimi e anche voi che state a casa tutti e anche voi che state qua grazie allora Angeli viva la musica Angeli e Angeli la canzone di Sanremo ottavo posto in classifica come vendita per Loredana Bertè accompagnata da cartoni animati di un grande cartonista di Guido Manuli certo finalmente ringraziarlo moltissimo ascoltiamo questa canzone con l'accompagnamento anche Oscar Avogadro perché grazie a lui che ho potuto conoscere il grande Manuli benissimo stai così? no no se dovessi rispettare la parcondicio dovrei fare delle cose che qui non voglio fare Loredana per te io non sono normale lo so lo so ho del telegiornale me la prendo per tutto per niente me la prendo col tempo e la gente aiutami a capire che cosa ho detto che cosa è questo tormento aiutami al paradiso non ci arrivo e l'inferno è suggestivo ma sono noti a dirmi no ma sono noti a dirmi dove stavo ma sono noti a dirmi cosa c'è che c'è di me e intanto sento che anche le aggeri lo sanno che non ce la faccio più ma sento in quella chiesa e la prendo con Gesù e non servono discorsi e nemmeno passa morti se funziona con qua userò la credit card aiutami il paradiso è troppo stretto c'è il vuoto nel mio letto aiutami il paradiso è troppo stretto io non sono normale odio odio vado da un'altra yes me la prendo con tutti per niente e ce l'ho con la gente io non sono normale dal bocca ai vestiti addosso faccio solo per il disesso lascio accesa la mia mano amo solo per rubare mangio solo per fumare e l'ha detto il mio dottore intanto per incominciare dare il cuore solo aiutami ora che respiro fuoco io non cambio questo gioco aiutami nel paradiso io non c'entro tanto io sto bene dentro mentre un popolo ti cranchi erranti in tesse e milagni attraversa la memoria erupendo dalla storia aiutami a capire che cosa ho dentro che cos'è questo tormento aiutami perché la vita è un'avventura che adesso fa paura dietro il buio delle stelle al colore delle apelle si nasconde l'anno stante delle guerre tutte sante anche gli angeli sanno che non ce la faccio più ma sempre in quella chiesa me la prendo con Gesù aiutami a capire che cosa ho dentro che cos'è questo tormento aiutami perché sia il bello paradiso ma sapere chi ha deciso aiutami il paradiso là non c'entro tanto io sto bene dentro aiutami al paradiso non ci arrivo e l'inferno è suggestivo brava Loredana brava Loredana per te grande piacere di averti sempre viva Loredana Loredana per te l'inferno l'inferno